vediamo se troviamo il thumbnail se no faccio una foto e la metto come copertina mi metti un gioco di parole che non me ce ne abbia a contro di me che è composto l'altra canzone non ci credo più a queste morti, queste stragi ce le avete narrate troppe volte teste tagliate, notizie, propaganda questo è il cuore della faccenda è una di casa mia che vi fumate per credere a tutto perfino a Repubblica la strage è quella di buccia fatta dai russi su tutti i giornali i razzi ucraini stragi nel Donbass ma il medio non frega un caz l'avete letto nei giornali poveri scemi che ripetete cazzate e neonati in quiet gettati dagli incubatori ed era tutta una minchiata l'U.S.A. come le armi di Saddam e il Polo erba di casa mia che hai fumato per credere a tutto perfino a Corriere farsi prendere per il sedere ancora una volta tutti i cattivi i palestinesi tagliagole tutti buoni i figli di Israele e il pan di casa mia che vi fumate per credere a tutto perfino a Mentana tu me sapendo di Mentana oh è una bomba per il prezzo questo è 56 euro per questo che va bene non c'è niente di particolare neanche la lusita ma questo è va bene arrivederci